La storia dell'arte La storia dell'arte è spesso liquidata come una materia elitaria, quando in realtà permette alle persone di comprendere il mondo che le circonda. Non dimenticherò mai la prima volta che vidi la Madonna del Prato. La mia dipendenza dalle droghe era fuori controllo. Mi fermai davanti al dipinto e piansi. Mi ricordo perfettamente la sensazione che mi suscitò. Mi tolse il respiro. Questo dipinto mi ha accompagnata per tutta la vita. È da lì che proviene il piede dei Monti Python. È il piede di Cupido. E quale modo migliore di essere schiacciati se non dall'amore? L'arte può essere qualsiasi cosa e significare qualsiasi cosa. Questo dipinto ha significato per la fase della mia vita che sto vivendo. Credo che Turner sia un genio. Nel quadro si snoda un vero racconto. Chi arriverà prima tra il vecchio e il nuovo mondo? Quando le persone dicono che l'arte non fa per loro, dimenticano che l'arte parla di storie umane. Come potrebbe quindi non riguardarli?